Allora ci troviamo qui al bar del Show Club che si è spostato stasera ad Alto Passo, ci troviamo con... Mirko, ciao a tutti! Allora Mirko, presentici la tua collega! Sì, lei è la bellissima Sara! Ciao a tutti, sono Sara! Cosa ci farà Sara? Eh, Sara sa fare tutte le bevute del mondo, quindi da tutti i tipi di generi, faccia lei! Tu invece sei un po'? Io faccio un po' giocogliere di zona, vabbè facciamo un po' queste faccende! Ok Sara, cosa ci prepari? Un Long Island! Bene, bene! Anzi, vi preparo un mojito, è meglio! Dai! Spiegaci tutto quello che ci metti dentro! Sì! Aspetta un attimo! Allora, per fare un mojito ci metto 4 lime, un cucchiaio di zucchero, Un po' di limone, sour, pesto, menta, Questa è una campionessa! Quali sono le bevute più importanti che hai fatto qui al bar? Ma, diciamo, qui facciamo un po' di tutto, diciamo, le specialità della casa sono, vabbè, Moiti, chiaramente, siamo sempre un attimino più richiesti, Negroni soprattutto, vodka lemon, Negroni, e analcolici vari per le signore! Ok! Siamo pronti Sara? Sì! Siamo pronti! È pronto? Allora, ce lo fai un saluto a tutti gli amici di Special TV? Saluto a tutti gli amici di Special TV! E tu devi dire alle ragazze di Special TV di venire qua a trovarti, no? Sì, ragazze, veniteci qua a trovare perché i barman sono i numeri uno, sempre nel locale, quindi venite qua! Ciao ragazzi! Grazie! Ciao!